Sant'Antimo si accende di fiaccole per Giulia Tramontano. Un sentimento di unità e rimorso invade il cuore della comunità. Una notizia unica e originale si diffonde sui profili social della sorella di Giulia Chiara Tramontano, una giovane donna originaria di Sant'Antimo, Napoli, e residente lì con la sua famiglia. La tragica scomparsa di Giulia per mano del suo fidanzato ha scosso profondamente il paese, portando a un gesto collettivo di commemorazione. Centinaia di persone hanno partecipato a una toccante fiaccolata organizzata dalla sorella di Giulia, che ha voluto onorare la memoria della cara defunta. L'evento ha visto la partecipazione non solo dei cittadini locali, ma anche delle autorità regionali e locali, tra cui il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. La folla commossa si è diretta verso la casa dei familiari di Giulia, dove essa stessa risiedeva quando si trovava a Sant'Antimo. Sotto l'abitazione sono stati deposti mazzi di fiori e messaggi in ricordo della giovane Tramontano. Questi gesti commoventi hanno fatto il giro di tutta Italia, rivelando la prensione che questo tragico evento ha suscitato nell'intera nazione. Le parole pronunciate dal presidente De Luca dal palco sono state particolarmente significative e invitano tutti a una profonda riflessione. Ha sottolineato che non è sufficiente chiedere nuove leggi, ma che è necessario affrontare qualcosa di più profondo e significativo. Ha invitato tutti a fermarsi per un momento e riflettere sul proprio rapporto con i figli, incoraggiando una riscoperta del ruolo educativo per trasmettere valori umani autentici. L'evento di Sant'Antimo ha dimostrato come l'amore e il ricordo di una giovane vita spezzata possano unire una comunità nel rimorso e nella consapevolezza della necessità di un cambiamento. La fiaccolata illuminata da una commovente solidarietà ha dato voce al dolore e all'appello per una società più consapevole, invitando tutti a diventare educatori per le future generazioni. Le parole del presidente De Luca resteranno impresse nella memoria di coloro che hanno partecipato a questo momento di unità e riflessione.